Oh ma c'è Enna No ma ha detto Enne come mai Come mai Banga ora E gli ho detto perchè mi sto rompendo i coglioni in ranked Mi sto annoiando e ho bisogno di uno stimolo Per divertirmi sto game Ma che poi è peccato perchè Io tutta la sera Non lo so Andiamo di qua Ok Ma l'unico game bello che avevamo la possibilità Di fare bene E' riavviato inspiegabilmente il modem C'ho tre pacchetti persi Oh ragazzi Tu Pure io Oh se ne so andati Se ne so andati si pure da me No io ce l'ho ancora Ma che cazzo è Ah vabbè datogli un attimo Quei 10 minuti che si metto un po' Vabbè vado con una da sigarette Tanto ce l'ho detto che è lupo Ma che fa Giro te ne vai che mi sento osservato per favore Ah pensavo gli avesse detto di Ah pensavo gli avesse detto di Ah no 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 Non avevo visto No stavo lutando Mi giravo e vedevo sempre il metodo di lifeline In teoria qua dove ho pingato c'erano due team Ma non so se siano andati via Ma c'è il flatline che avevo visto Io ne avevo visto uno Oh prendete il volo raga davanti a voi Ah si Prendete il volo qua Magari arriva di qua guarda Raga questa arriva Uuuuuh Compa 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 Che culo Ma che è assassin's creed Compa Hanno beccato uno Ma come ha fatto Compa Sparagli Sparagli Craccato No Bianco Bianco C'è un altro sull'altro L'altro è la zitta Ok No Questo si vuole buttare giù No Si è buttato giù Non c'aveva pure Vabbè andiamo via Andiamo via Eh ma devo confermare sto stronzo Dove cazzo è andato Dove è andato Non lo opererà mai Guardate dove cazzo è andato Come cazzo la prendi la cazzo Pezzo di merda Stessa cosa vale per loro Compa È vero Ragazzi prendiamo sto cannone Dove cazzo andiamo Non lo so ma io sono messo male No 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 Andiamo in sezzo Apex on pc Is another game Eh devo andare a piedi È finita Apex on pc Is another game Ah no c'è più di merito ancora Che mi ero graffitato Tu non puoi fare questi scherzi Perché io torno indietro Oh cazzo sono morto Eh quindi Raga sta prendendo una Zip line Potremmo andare a craftare Ah no se ne vanno Ok Ragazzi Ma si può morire E' vietato Cioè è vietato Cioè è vietato la raccorsa Dei mappi Oh qua hanno chiamato Un respawn Ce l'abbiamo fatta Con Fabian Non dire C'è un show che stanno restando Com' va Ah io ho messo il drone No Non è restato Non è restato Mi sa che c'è una calcora adesso Raga Ha fatto uno Arriva 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 Non ho cure C'è un altro team Occhio Occhio con questo si droppa Non so dove Da me Si droppato Si droppato Raccato Raccato Raga ti fa tre di pullare Mi hai messo il drone È una mano Energy mi serve uno energy se ne abbiamo Mi all'avanzo Eh aspetta 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 Ho chiamato Dele pacco qua Vai vai Paccati Almeno mi da qualcosa Questi holdano di qua Ok Vedo dove cazzo giriamo Avete un balloon Arrivano Mi sa No no Nessun balloon io eh Fanno il giro da qui raga Ok Da dove comba Da destra Gli ho visti uno davanti Possiamo prendergli top adesso Come vuoi Qua si crack uno Life in viola C'è il balloon io C'è uno che ci arriva da dietro Due Sono due che ci arrivano da dietro C'hanno preso il top Quasi crackato uno Uno da me Uno da me Uno da me Uno da me Crackato Fatta 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 Posso crossare Lino Sono sopra di me Sono sopra di me Mi allargo qua Dovremmo andare da tutto Vabbè citta questo Fra Arrivati push a metà Ti push a 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 No 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 Fatta 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 Ho messo il coso Lo restiamo subito Sì 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 l'ho già messo Il compagno moriva Anziché farsi il 2v2 Mi doveva confermare a me Sto dando un po' di tempo a Rino per Lutare Ah io vado giù raga Vai 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 Sta cazzo di safe raga Mamma mia che hai malinsegna della safe Ragazzi se avete le cure vi combina a tre da me Avete un'icida, un'icida No vinta Ho il respostato Eh siamo morti Sì No ho trovato adesso le silinghe Sono a terra ho bisogno di un medico Vabbè ci fogliamo tutti Io sono avuto due silinghe Lo rest d'oro, lo rest d'oro Ora te lo do e lo resti Ti fai sbordi Tieni Appena arriviamo qui al fondo metto la zipline Metto qua dietro che ci fogliamo Ci siete? Arriva, arriva, arriva Mamma mia ragazzi Però mi sa che ci morio Ce la faccio più Ma non è ci morite No fra non dire così Ok Avete energy? No Leggere e pesante Avete celle? Ho quattro celle e una batteria 55 secondi Dobbiamo girare da qua raga Giriamo dall'altro lato Comviene Aspetta che mi Mi rifullo Ci conviene girare da qua raga Vai vai subito Vai subito Oddio sto game Sembra che ho lavorato in miniera Ti giuro su Cristo Madonna Ho del culo di Lino Prime Putta puttana mi son cagato in mano La mamma di questo cazzo Ti fa proprio i pini Sai come? Con i denti mi fa Guarda 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 Fermo giro Ma pure tu però giro Ma io giro l'angolo e c'è quel cosa Che cazzo ne so? No vabbè ragazzi siamo veramente tre rincoglioniti Posso dirlo? Quanto pure le celle Non male che c'ho la energy questa Mamma mia mi sono Mi spigiuro son saltato Preferisco passare da destra Almeno c'ho il top Però vieni tu qua Vieni tu qua Rino Ti do la vita C'è Ciro che insegue Rino malissimo Almeno usciamo Non ho manco la batteria C'ho 16 celle Tieni tieni Due batteri qua Ah io ho una Ho tanta energy Bello Tieni compa Tieni C'è un caricatore energy qua dentro Nella stanzetta viola Se vi serve Pensa che l'hanno sentiti Io spero che gli esplodano i pad Allora Ragazzi vi giuro che dopo sto game Devo andare a fare una dodge Combattere vuoi riprendere Stare energy Mi pido il must if No 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 Portamelo se riesci Eh combattere Non ce la faccio Non importa Dai Dai cosa? Stavi sparando Una pesca Compa Vieni 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 Il game più difficile Che abbiamo mai giocato in vita mia Giriamo da destra Ma dove sta Qua davanti Eh si a sinistra Antiglio all'altro lato Ragazzi visto che già c'ho lo scudo asilare ora no Quando faccio la viola Prendo l'auto res Si 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 Eh Nel dubbio No no piglia l'altro che ci facciamo la viola con il package Vabbè Qua c'è un altro package Lo prendiamo? Si 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 Scannatelo Quello è già petto C'è un arco Che potrei rompere i coglioni a tutti Si esatto Non lo posso prendere pure io Prendete 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 Non è uscito il coso Prendete un attimo il pacco io Copritemi Ho freddo copritemi Io vi sto coprendo Qua non c'è nessuno Allora qua c'è il coso Ma c'è qualche arma leggendaria? Ce l'avete tutte due Eh qua c'è questo Eh rino se lo devo prendere Ok Resodorato ce l'avete tutte e due vero? Si Ma cazzo Mi scavo a scoprire Ma un po' C'è la zipline Ah scoprire Ah è vero non c'è la più Si è salito Si 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 Un mostro fra Insegni Potremmo potremmo Guarda 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 Come cazzo sei fatto 96 combattolo Tanto ora arrivano tutti Mi torno da voi va Guarda Guarda prendere la zipline Volano eh C'è uno che C'è un team che vola Gli volo addosso Gli volo addosso Guarda lì Gli volano qua dietro Volto addosso Caricato flash Qua dietro Knock uno Flash No non abbiamo preso una kill Se lo vogliono lootare eh Se lo stanno lootando col market Guarda 70 Gli ho fatto 46 Caccato Finito l'energy Ma Buu raga io Pause Il kit Qua dietro Qua dietro siamo safe Io li ulterei questi qua Ti giuro Io sono già in safe Io Il gioco è questo 96 a 1 88 Raga dobbiamo far girare questi dall'altro lato Dobbiamo spingerli Ci siete con me? Non devono girare da noi Devono andare dall'altro lato Infatti Ok perfetto 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 Caricato uno Massacrato Massacrato Visto Questi devono girare di là Mamma mia 65 a 1 Flash un altro Quasi knock Quasi knock Raga uno si fa il tiro eh Uno si fa il tiro a destra Qua dietro Nico Ok quello non lo faccio girare io Ci penso io a quello 52 Blu Ora che si chiude la safe Sarebbe ora Hanno un knock Hanno knockato uno di questo team a destra Ok Zero energy avete vero? Compato Stai attento a non parte di girare di là Se stiamo così Stiamo a posto Solo di qua Non ti devono girare da sotto Lutano a questa cosa? Niente Shiro tu in caso mi dai una mano con questi Guarda se lutano Non lo vedo Non lo vedi dietro la pietra Ok ok L'importante è questo L'importante è questo Questa è una duo Che dovrà andare qui da loro Infatti vedi che vogliamo girare da noi? Sì Arrivano subito da te Dobbiamo mettergli danno Rimani là giù Con l'agorino con una zip In caso andiamo subito da lui Ah io non sono sopra con te eh Sì 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 Da me non giro non so Ok Sì 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 È rosso fra 12 rosso Cioè 30 rosso Compato puoi venire da noi Puoi venire da noi Eccolo 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 Craccato uno fatto uno Ok bella 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 Guarda sono open Ho finito l'energy eh Li ulto Li ulto Bella 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 la ultima Sì 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 A destra Craccato Buono mano Buono Bella Ecco uno 140 140 Faccio battery 8 2 Mi curo eh Mi curo full Mi curo full Mi manca uno Manca il ratto Forse da me eh Da me ecco Dietro No Non è un ratto Arrivo arrivo Raccato uno E sono lifeline Sono in due Lo curo Lo curo Fra No uno No uno No uno Ma come cazzo Giocano questi GG Ma erano in due Come me ne so Trovati due davanti Ma di cazzo È stato il game Più difficile della mia vita Voglio andare a dormire Buonanotte Ho trovato Ho trovato più difficoltà A scappare dalla safe Che da questi qua Sì 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 La safe era molto più forte Ragazzi La safe mi ha one clipato Prima GG GG Soca Lascio il posto Che fatica Vero Sì Ti ho detto La parte più difficile Era la safe Mamma mia Ma sono scarsi Sono scarsi Mi fanno incazzare Sono scarsi Ma giocano sporti Non hai fatto Giocare sport Sono anche Non lo so I momenti sbagliati Capito Cioè C'è proprio cose Che tu puoi farci Sto game è stato lunghissimo Raga Io ora svengo Sulla scrivania Ti vi giuro Mamma mia Non aveva l'asciugamano Dico Perca puttana Asciugamanino bagnato Mamma mia È stato il game più difficile Che abbia mai giocato In vita mia Oh mio dio Sì stiamo arrancando Giorgi Vabbè Sono diventato tutto rosso In faccia Buonanotte belli Notte giro Ciao belli Ciao giro Notte notte Ragazzi allora Vi faccio questa offerta Se mi riscattate L'aprimi adesso Apro il pacchetto C'è una leggendaria Vi regalo un altro pacchetto Appena posso Appena posso Appena c'è 100 monate Quando stacchi Eccolo qui Marco Che culo Marco c'ha un culo Della madonna Guarda che c'è leggendario Abbiamo anche un terzo C'è DRK Ma è Dreyken Che gioca Ragazzi Stanno unificando le lobby Così ci becchiamo Sia lo schifo dei console Che lo schifo del pc Buono Sì sì La volta buona Di gutare Buon time Prendo le capsule Prendiamo le case Io prendo quelle a destra Siamo dentro l'anello Mi ha rubato le capsule Da me c'è una carabina A questo è Sì Forse ci facciamo la blue Con sta cosa Vi vogliono push a me Ci sono Sono con te Forse avanzano Sì Horizon Crackata Crackata ora Quasi crackata anche l'altro Bella Knock 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 Demolita Praticamente Tutto a tre Me li sono beccati Alla fine Eh Sì Non è male che vi siete fatti L'horizon Subito Eh Se l'hai fatta rilascia Io ho Crackato il po' Si l'avevo crackata L'horizon Lascio Facci considera Le persone che hanno bannato Per un anno Per six manning Su console Anger Stavo parlando con te Scusami Le hanno Alcune non le hanno bannati O meglio Le hanno sbannati Perché Per il bug Che c'è stato Del reset Degli account Per quel bug lì Non li hanno bannati Cioè Devono bannati Ma li hanno tipo sbannati Arriva un drop di là Eh Un devotion oro Minchia Io Voglio No Niente Tre cell E quattro siling The devotion oro Me lo piglio Mi lascio Lascio un treperio Se vi serve A me sono solo Energy Se l'ha trovata Questa batteria È qui per qualcuno Eh Per me No E come Energy Non ci sono Campione fuori gioco Sono paura di andare a prendere sto devo Usiamo tutte e due le Energy Però Cosa cazzo Eh sì Eh io c'ho già C'ho già Nemesis Comunque Oh ma fa Qua Nemesis Aspetta con Che cazzo ho detto Vabbè avete capito Vedano quei brawler Mi hai detto qua Nemesis Sono qui eh Avanzo Ti prendo subito il top eh Lui è dietro questa cosa Non lo sa ancora Eh non usarlo se riesci Ah ok Forse lo pigliamo Guarda Eh c'ha Occhio No ma Non Vado 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 Scusate Mi hanno zappo Crackato Distrutto Reviando Knock 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 Da me Da me No è flash Ho visto Ammazza Ammazza Mi provo L'arena Ragazzi Eh Questa No no Ma è stato incredibile Enemy ha smoccato davanti Io ho perso L'hyme assist E quel revenant Mi ha one Clipato con l'Elstar No ma Cioè Stiamo scherzando Il primo Ma scusa Ma come facciamo sapere Ma sì Ma appunto Ma come cazzo Ma poi Preciso Subito Io ve l'ho detto Enemy ha smoccato davanti Io ho perso Line assist Quello là Mi ha one Clipato Io non avevo Iman assist E quello mi one Clip È blu l'altro Quasi crackato pure Sto arrivando Sto arrivando Straccato ora Oh da me Da me Da me Di sotto Mamma mia Sto ricaricato Ho eliminato un nemico Sembra tu abbia fatto Certo Sto è lontano dal mio Devoce Dov'è? Ok l'ho visto No Vuole prendere il trident Sì ok Ho visto Sto ricaricato flash Morto Morto Vada lontana Guardate che cazzo Plato Che cazzo Mi serve un energy Ragazzi Lo ha finito tutti Se qui Eh io non ne ho Eh guarda quanto sono io Eh te ne lascio cinquanta Porca puttana Quanto è forte stanno Ma comunque da clippare Quello tipo Dei assoluto Sì quella sì Io devo tornare indietro a lootare Stavo meglio Prima che vale Ah comunque Chiudere Dobbiamo tornare indietro a barriera qua Bombare 5300 Perfetto Oh emlock Manco per scherzo Mamma che non c'era più un emlock Incredibile Questo va al car Balloon 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 Sì Ma non lo pigliano La valkyrie va avanti La valkyrie vola Aspetto Aspetto l'ultimo Aspetto la valkyrie Aspetto la valkyrie Che lo prenderà Non è qua Dov'alkyrie lo dovrà prendere ancora Ah eccolo sì Davanti a me Scracata Flash No Sto facendo solo partecipazione Sto ammazzando tutti Ragà torniamo indietro a dove siamo venuti Eh sì fuori safe Allora nel giro largo Mi sa Ma non so se sono stati su Sto ammazzando Ma non so se sono stati su Sto ammazzando Una chavata Potrebbe essere È un drop Sto ammazzando Prendo questa Potremmo Possiamo tornare sulla barriera A giocare lì La safe Punti punti Ce l'abbiamo Ce l'hai Vabbè l'avete preso Io ho 5 assist Io ho 3 punti e 7 partecipazioni Io ho 5 assist e 5 partecipazioni Il Revenant che mi one clipa nella smoke di Hena Quello così Il team sopra che è tutto e 3 su di me sono venuti Ho paura a salire comunque Guarda che va prima Io mi guardo dietro Magari ci vengono da dietro Abbiamo la safe Tanto gli altri punti che vi mancano ci possiamo fare Raga siamo qui sotto Poi chiude su È un casino Ci siamo non ho restato qui davanti Ci siete? Sì Ci sparano da destra Io salgo su Tanto che la zip prendi meno danno Distrutto Gli ho tirato una nade buona 13 li ho fatto lo stunnato Arrivo Ho più sempre l'altra squadra Ora mi ha demolito Arata dentro Ma? Come è possibile? Hanno restato allora? Oh no Ok che girano da qua sotto il ponte Da qua sotto il tunnel C'è un full team lì sulla casa Non questi potrebbero arrivare da qua C'erano altre energy dentro Sì? Ah restando su Ah qua arriverà Sì 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 Ah un team è lì sopra Ah possiamo prendere la casa In safe Se volete Metterò la zipline No 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 Non la mettere Se no poi la possono aprire pure loro Ah anche già quella lì Non si sa mai Sono già lì Sono già lì Sono già lì Sono qua? Ho visto sparare uno col triple Eh pusciamoli subito Pusciamoli subito Sì dalla finestra occhio Tutti dalla finestra Ben ultato Ben ultato Ok ascensore ascensore Ah ma ho il quadro di merda Ho il quadro di merda Ok Ok Triple volotte Beh il jeepo è volotto Tipo di jeepo di jeepo Madonna 240 è il jeepo Sto ricaricando gli scudi Hanno jeepo life Eccomi Sono uscito Sono bollato Ok sarebbero da ammazzare questi stranzi Sì Ok 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 Questi Allora o li pushiamo in O non cerchiamo pick Perché tanto c'hanno Loro vedono tutto Ma Cercare pick è impossibile Perché loro lo sanno già Buon ragazzi Andrei in modo Abbastanza cattivo Ci siete Dentro O no Volete aspettare Ditemi voi Abbiamo anche un botto di punti Ando qua Guarda qua Cioè stanno sparando un team Che Eccolo Blu Staccato L'ho knockato Ragazzi a me preoccupano Così sotto L'altro C'è No è impossibile Che ulti ancora Mancano tre minuti e mezzo A meno che non c'è acceleranti Ciao prisma Piene game ti rispondo Ok Davanti a noi Sotto Qui sotto Delle scale qua E uno è qui dietro Grazie per il follow comunque Ti rispondo subito Guardate quello Eh È morto Oh ok C'è il cittone Forse di qua arrivo Guarda Quasi crack Vuole salire Vuole salire Ravenant No Merda Blu È blu Ravenant ragazzi Ma tanti Ma dalla finestra Si può piccare Romba Puoi mettere una zip line qua Per pigliargli la position qua Distruttorevi Dobbiamo pigliarla La zona qua L'ho pingato Ci stanno già girando Vai messo Prendiamola ora 30 secondi Guarda 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 che fatti Tila break Sta facendo il tutto Tila break Ok la mia zip Che potrebbero prenderla Distruttorevi Distruttorevi C'è la break qui sotto Non lo so C'è la break Da qualche parte Ok abbiamo preso Una bella position Occhio L'hanno restato Questo è il cheater Occhio Quello con il 99 Bella Bravissimo 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 Arrivano questi Questi qua Non devono girare Se girano tutti Laggiù È GG Questi vogliono girare Do noi GB GB open GB open Vogliono girare Merda Questo cheata Questo cheata L'ho visto L'ho visto Blowdown Blowdown Craccato Flash Uno di vita Bloody Uno di vita Blood Uno di vita Knock 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 Sì bravissimo Guarda quelle Guarda quelle Confermiamo questo Che riesce Ok questo era il cheater Cheater La Q Dove stanno Dove stanno Sì con Q Da me Le ho usati Quasi crackato Un revenant C'è ancora l'altro team Occhio L'ho fatto malissimo Finito Ho detto le energy Mi posso allargare Ok ok c'è sempre l'altro team Distrutti Mi hanno esso un botto di run Abbiamo sbagliato Dieter 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 Mamma no Mi ha bisciottato di PK Raga 90-99 Mi ha fatto raga Mi ha fatto 90-99 Colpi di PK Abbiamo avuto 90-99 Eh ma dovuto l'oro Non ci credo Non ci credo raga Mi ha fatto 80-80-80 A tutti e tre Non ci credo Raga l'ha condito i colpi di PK Eh nè Eh nè Ma ha fatto 90 con un colpo 99 col secondo 190 con due colpi di PK Mi ha fatto Cioè che cazzo devo fa Che cazzo devo fa 90-99 90-99 Due colpi All'acchi Abbiamo avuto un po' di pressure al culo Abbiamo sbagliato malissimo Secondo me l'abbiamo addorlata male All'acchi Vabbè Sì cazzi Comunque Pris Allora game di Di armi in meta Ah da lì Peccato 200 punti Mamma mia Che peccato Incredibile Ti dicevo Allora di armi in meta Abbiamo L'Avok L'Avok È full meta Al momento Per quanto riguarda invece L'SMG C'è Prowler Carvolt Il 99 è stato massacrato L'hanno distrutto È inutilizzabile Alternator Fortissimo Se hai l'hop up Senza hop up è buono Comunque ma Ti distruggono Se hanno Se hanno altre armi Come tipo Prowler Carvolt Per esempio Flatline Flatline Avok Full meta Al momento Anche l'Mlock Trova abbastanza Spazio Sì I game Non sono particolarmente Stacked Quindi le marksman Hanno perso un po' di spazio Repeater Triple take Eccetera Però Comunque sono molto forti Il triple take Nonostante i nerf È fortissimo In realtà Al momento Puoi giocare Un bel po' di armi Probabilmente L'unica forzatura È l'Avok L'Avok È veramente Troppo forte Se ti trovi di fronte Un'Avok È andata